Valentina Ronca, sono la food blogger di Cosa Cucino Stasera partecipo a questo concorso che si chiama Cucine da Sogno di Scavolini come vedete questa è la vecchia Scavolini di 30 anni fa quindi siamo fedeli al marchio io vorrei tanto una cucina più moderna già per esempio urban quindi comunque una cosa più moderna per valorizzare la cucina oppure insomma una cosa un po' più carina per fare miliardi di ricerche da pubblicare nel mio blog ciao